partiti all'esterno il leggero vantaggio AdSense seguito lungo la corda da Regina Segnina quindi sgomma, popularity e Atlantis Crossing a largo cavalli in linea dopo 300 metri di corsa con AdSense in vantaggio all'esterno tallonato da Atlantis Crossing più all'interno, ora avanzano popularity e sgomma lasciando in coda Regina Segnina siamo a 400 dal palo AdSense è in leggero vantaggio lungo lo steccato opposto lungo la corda invece sono in lotta sgomma e popularity siamo nel tratto finale, sgomma sta passando all'interno nei confronti di AdSense e popularity nel tratto conclusivo c'è lotta tra sgomma AdSense e popularity i tre vicini davanti a Atlantis Crossing andiamo a rivedere le immagini con AdSense che è rimasto lungo lo steccato esterno e sgomma invece che ha provenito per linee interne nel tratto finale su AdSense sono finiti forti, sgomma e popularity e sul palo sgomma passa e probabilmente anche popularity ha piegato AdSense ma visto i minimi distacchi è consigliabile aspettare il risponso del giudice d'arrivo